Molti vogliono sapere qual è la differenza tra le pornostar di una volta, come Cicciolina, come Moana Pozzi, come Mini d'abbraccio. Beh, quelle erano delle attrici, delle star, delle donne che amavano il sesso, per cui la gente usciva di casa, andava al cinema, andava in videoteca, comprava i film perché c'erano loro. Quelle erano delle pornostar, erano delle star in generale. Oggi si definiscono pornostar delle ragazze che quando fanno un pompino, invece di farlo a casa loro nel privato, le fanno davanti a un obiettivo di una macchina presa, già diventano immediatamente pornostar.